ciao mia cara hai chiesto informazioni su questa esperienza femminile alle terme e ti rispondo direttamente in video è un'iniziativa dedicata a noi donne per trascorrere due giorni insieme davvero speciali dove riscoprire la forza del femminile riscoprirti una donna forte decisa centrata una nuova te ma non solo sarà anche un'occasione per dedicare del tempo di qualità a te stessa per coccolarti rigenerarti con yoga meditazione respirazione buon cibo e tanto relax e il percorso allo stabilimento spettacolare di acque termali di salso maggiore oltre a trascorrere uno splendido weekend di benessere ti porterai a casa tutte le risorse di cui hai bisogno per dare alla tua vita la direzione che desideri finalmente potrai esprimerti al 100% e valorizzare il tuo essere donna in piena salute infatti ti svelerò i miei segreti di benessere fisico mentale spirituale e tutti gli strumenti che mi accompagnano e mi aiutano ogni giorno da tanti anni con tanta positività nei miei quasi 30 anni di esperienza come specialista di salute naturale ho aiutato centinaia di donne sia individualmente che in gruppo a ritrovare benessere e a raggiungere lo stile di vita che davvero desideravano tutte hanno avuto grandi risultati in termini di energia salute relazioni soddisfazioni al lavoro stima di sé e gioia di vivere non vedo l'ora di incontrarti al prossimo evento donne alle terme per sentire dalla tua voce quali sono gli obiettivi della nuova te inizieremo a stare insieme sabato dopo pranzo alle 2 di pomeriggio in una cittadina deliziosa come salso maggiore circondata da colline e con le migliori acque termali d'europa che sperimenterai direttamente sulla tua pelle sono certa che staremo bene insieme fino a domenica nel tardo pomeriggio se hai altre domande scrivi pure alla mia mail personale e ci vediamo alle terme naturalmente grazie a tutti